Signori ci siamo, oggi faremo una nuova challenge, un nuovo video inutile e oggi giocheremo al fantastico gioco dei mimi Io e la mia dolce metà Stefania contro i fratelli Ht Io e il mio dolce incubo Regola è molto semplice ovviamente, chi mima non può parlare, non può dire niente Bisogna indovinare il film, chi indovina più film vince la sfida Ricordiamo che si può mimare sia il titolo che quello che succede nel film Esatto Abbiamo scritto 20 film noi, 20 film loro, li abbiamo inseriti in questa saccoccia di Youtube E ovviamente andremo a pescare, loro non sanno i nostri, noi non sappiamo i loro e quindi basta Via! Sei parole Stefania Ragazza Donna Donna Due La seconda parola, donna? No, due donne Ma che cacchio stai facendo? Due donne Una parola all'incontrare No Lei, Stefano, donna Donna, donna c'è Donna, colpo al cuore Tradimento Uccide, morte La morte Vivere Non lo sa Due donne vive Che cacchio stai leggendo? Don, due Questa cosa qua cos'è? Non lo fa Dieci secondi Donne vivere La donna che visse due volte Soffiare Volare Giocare Poteri Superpoteri Di Avengers Hai freddo E lì Tu hai freddo E butti il freddo Buttare freddo länciare freddo Ho freddo Il grande freddo o un buco nel culo non lo so ma cos'è ma cos'è non farmi delle tette ahahahahahahah cos'è il regno di ghiaccio si raga le colline anche gli occhi anche le colline hanno gli occhi siiii anche le colline hanno gli occhi non è giusto eh vabbè è un minuto dillo giusto anche una collina anche la collina eh solo sbagliano è collina no colline ok eh hanno un occhio ahahah hanno gli occhi eh dillo bene le colline hanno gli occhi oh che culo due parole la prima le tette una donna palpare palpa palpipcio eh facile l'ho detto dai e si fermo già lì? dillo a prima tipo non fare niente è il titolo io non lo so ballerino cantante artista pezza sotto la mano artista tutte e due insieme ballerino cantante artista the artist no e ballerino artisti cantanti e ballerini ah ho capito step up 1 2 3 step up 4 5 step up revolution step up ma hai due parole ah ma potrei fare in altro modo vedi non sei buono comunque stop sai come dovevi farli o così? adesso voglio vedere che lo capirà la laggiù la la land ma sei un cretino sei proprio un cretino sei proprio un cretino è sempre costruita via col vento via col vento e allora bellissima eh questa è la pace io e te io e te e l'altro io e te e lei io e te e mamma io e te e Marilyn io e te e Sally io e te e mamma ah 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 io e te e... le secolline ci sono ancora no? sono collinette cos'è un cane? zitto ah 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 scusa ma c'è il cervello che collega le osse io e Marilyn nooo ma perché non pensare a film pensa alla parola cane io te e il cane cane tanca bai o mord cane lui io nooo noi oh andiamo dall'altra parte guidiamo la Giulietta l'Alfa Romeo guardo quando guido partire andare andare via col cane non c'è cane stop c'era un gatto se non è un cane se non è un cane è un gatto due parole la seconda fiero il discorso quello ti sembra uno fiero è pelato la prima ha una striscia pressione è un caporale l'ho capito il sergente il capo il dove c'è il caporale ho capito 10 caposala spaziale la capitale america come cosa è il mimo america raga dai america tre parole tre la terza partito la terza cielo sole universo spazio galassia tutte le ho detto che non c'è più niente la lumaca ti ha detto spazio aspetta un alieno ok terza parola alieno va bene la prima alieni ok sono tanti alieni cowboy and alien no più brutto dai dai è brutto come eeeh ma dai cos'è no dimmi la seconda no eeeh è qualcosa insieme agli alieni stop ma guarda un demente però non penso che sia demente con l'alieno mostri mostri gli alieni ahah la cazzata ti odio mi odi perché io ti voglio bene tre due ci sei uno via tigre mostri feroce non ho capito eeeh leonessa leonessa il re leone no vabbè ma il gatto in tangenziale contro il re leone eh ma guarda che l'ho capito da questo ah si quello è l'elicotter questo è chiaramente il re leone dai si vabbè ma noi acqua bottiglia forma formosa forma la forma dell'acqua occhio questa una faccia prima ritorno al futuro mago! I am the one no way your time don't need ah 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 dai ritorniamo al futuro 4 a 2 ricordiamo il primo che arriva a 10 punti vince la sfida che cos'è dai tre parole come tre parole forzuto forze porta erano tipo forte forti forte fortissimo super forte fortissimo, non è forte, è un sidone si no non è forte, ok ehm forte no ho capito ho capito cos'è come si fa a fare sta parola dai lo so erano gli incredibili 2 correre correre andare andare correre velocissimo dai dai forrest gump eccola la quella che dici guardate la differenza di parole prima di commentare eh però tu marco fratello ma vedi che non sono i miei mare fratello parlami parlami profilo marco e luca dai vai aiuto tu fai così vedi che non sei capace telefono mi chiami mi chiami marco chiamami marco mi chiama chiamo io mi chiami io ti voglio io scusa scusa chiamano amore che il telefono senza u telefono no chiamo raga non sbettimo mi chiamami Amore Chiamami Fratello Io Marco Tu Luca, chiamami Luca Chiamami Luca e Marco Chiamami tu Una storia d'amore dai Omosessuale Chiamami il titolo Chiamami con il tuo nome Non il mio Io Marco Non l'ho visto Balla coi lupi Lupi Qui e là L'orizzonte La strada Non puoi dirlo con la bocca La strada dei lupi La strada Contro i lupi La strada dei lupi La strada dei Delle lupe Dei La strada Una cosa che li devi far capire Allora, va a dire Eh Che è Solo quello Che la fai capito in un nome In un nome Quello devi farli capire Eh bravissimo L'ora del tè Cinque Quattro Tre Sorseggio il tè No ma sei stato bravo però Uno Oddio The wolf of the Wall Street Ti voglio dire in inglese capite Doveva farti capire in inglese Perché se no le parole erano quelle Sempre sto cielo Cielo Sempre universo Spazio Sole Ma fai così no? Più o meno Più o meno cosa vuol dire? Più o meno il cielo Ok Vabbè Che cosa sarebbe questo? Andare verso il cielo? No Eeeh Un sinonimo di spazio No te l'ha detto lei Sinonimi Galassia Eh Sì Galassia Guardiani della Galassia Eh mica Ve l'ho detta Vi ho aiutato Ma ve la diamo buona Perché siete ignoranti Eh Dito Infilare Ti troppo porno Anello I sinonimi anelli Sì ma che roba metti Dai Troppo facile Vabbè Tre Tre parole Una prima Incrocio Si beccano Due e uno Uno a due Dai Uno a due Numero uno e due Dai Il numero due Il numero tre Contare fino al cinque Vabbè cazzi di film Non l'ho visto Conta con me Uno due tre Quattro cinque Sei sette Otto nove Dieci Undici A tre No c'è problemi No c'è problemi Cosa c'è dopo l'undici Dodici No Madonna Ma quello è un dodici Eh Vabbè Le decito delle dodici scimmie Eh dai Si capisce adesso Dodici Attaccati Calamita Sì vabbè Ma siete stupidi Raga Dodici Ma ho finito Dodici anni schiavo Minchia ma c'è No dai si è impedito Questa l'ho fatta bene Questa l'ho fatta bene Sontava fino a undici Seppure Unici tre Vabbè scusa ma uno che fa così cos'è Vabbè ma è un dodici Vabbè ma è un dodici Della sua parte Quattro parole Perso Alon Pesce La ricerca di Remo Infatti stavo dicendo Perché non fa il prefetto Senta tre Non sei scattissimo Vuoi cagare Ma guarda che tanto Va benissimo Come un'altra sfida La gente poi commenta sotto E capisce come vanno le cose Ok Stoffinarsi Pulirsi La barba No Mi farne una per volta Così Ah questa era tutto insieme Le prime due sono Cioè mi dici cinque parole Poi fai tutto insieme Fali l'ultima Fali l'ultima No Ah gratta e vinci Grattare No Ha sbagliato un messaggio E quindi Se lo sbagli Marco non c'ho il cellulare Se lo sbagli Volete lo insegnarti Sostengo Non sto facendo giusto adesso Se lo sbagli cosa fai Ti incazzi E poi E poi chiedi scusa Io non ci credo No non mi viene proprio Ah cancelli Se lasci ti cancello Se mi lasci ti cancello Sì Fuori tempo Ma è matanato Dai Giurassi par Sì Volevo solo vedere la faccia Mentre lo faceva Voleva la pena lo zoom È un punto meritato Due parole La prima Ciao Scappo Dai la seconda Se mai Scappo Correre Andare Viaggiare Ti porto via Ti porto Non puo fare Vento Corre Ti corre col vento Via col vento Correre Scappare Andare Scappare Fuggire Fuggire Quasi La prima invece è Uno Un attimo fuggente Attimo fuggente Attimi fuggenti No Attimo fuggente No Un attimo fuggente Vabbè lo dicevo Nudo Ho capito cosa vuole fare Boia Un mostro Un Che c***o Non è un mostro È un È nero È un fantasma Fantasmi Fantasmo Ah ghostbusters E mica mi bastava quello Tre parole Vabbè fin là La seconda È piccola È un articolo Si La terza È esultanza Gol Sempre con la G E basta Ci sta Ci sta Godere Eh l'ho fatta tutte Non è vero Non l'hai fatta Godere È caldo guarda No Ho capito Ho fatto così Ah tipo che c'è una folla E tu stai Eh Eh Minchia con la G Non è difficile Avete sbagliato Perché è finito il tempo Che cos'era Momenti di gloria Due parole Paura Eeeh Paura di Paura folle Il cadere Voglio di far male Paura di farsi male Amputare Ah eeeh Soul Lining Mista Sì Ma andate tutti a Ovviamente chi ha vinto questa challenge Ovviamente Noi 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 siamo più bravi Anche se loro erano più difficili Non sono veramente in grado di mimare Potremmo fare una rivincita Tutti contro tutti Scrivete qua sotto che è stato il migliore Come tutte le challenge Lasciate un commento Iscrivete al canale se non siete E lasciate una bordata di mi piace Aspetta non me ne andate signori Perché adesso faremo una piccola postilla extra Perché io e Stefania avevamo scritto un film molto bello E vogliamo che Marco lo mimi Pensate che questo neanche il rivincito Poi mi spiegate perché Marco Però Quindi io devo indovinare La prima è piccola e corta Quindi un articolo Il La Lo Un E tutti i besti Vabbè passiamo la seconda Non ce la fai Blu Blu Piccolo Blu Il grande Blu Basso Forte Ma così lo svi Forte piccolo Grande Blu Vabbè Dai fallo tu Lo faccio io Dai lo faccio io Blu piccolo Lo faccio io Blu sky Lo faccio io Vai Piccolo Piccolo principe Piccolo principe Ci stavo E' facile Il piccolo Ok Basso Lo alzi Gulliver Ma no raga E' più facile Cosa Grazie Giro Sdraiato Sdraiato Sotto Sopra Appoggiare sopra Sopra Non ce la fa lui Comunque Come si chiama quella cosa Dove poi ci piedi Si comodino Tavolino Cosa ci metti sopra Puff Il film è col Il piccolo I puff Soprattutto E' 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 E'